L'ennesimo blocco stradale sulla salaria che ha scatenato la rabbia di molti automobilisti terminato con quattro manifestanti feriti sono stati medicati in ospedale. Gli agenti hanno liberato la strada e accompagnato 15 attivisti di ultima generazione in commissariato per essere identificati e denunciati per blocco stradale e manifestazione non autorizzata. Si valutano anche le posizioni di alcuni automobilisti responsabili d'aggressioni. Sono volati calci, sputi e insulti. Uno scooterista è passato con il motorino sulle gambe di un manifestante seduto a terra. Gli ambientalisti in un loro comunicato rivendicano il blocco come azione di solidarietà nei confronti dei 500 lavoratori della GKN di Firenze che verranno lasciati a casa tra pochi giorni e per tornare a chiedere un fondo riparazione per i danni del cambiamento climatico. Si chiedono il governo, si farà carico delle persone che perderanno ancora la casa, il lavoro raccolto come è stato il caso a Campi Bisenzio per i 500 lavoratori della GKN. La risposta è no.